bella e grazie, siamo arrivati a un nuovo pacchetto per inglese dopo quello che avete visto di St. Patrick's con i pacchetti maxi da 25k poi ne avremo tipo una quindicina si, va bene, inizio io proprio finiamo questi 600k e poi te lo diamo nel culo perchè ci stanno più i sordi ah, inizio io ok, ci sono uscito eccolo questa è la chiamata, è proprio la chiamata per te Ronald Ronny, Ronny Vargas ma che cazzo è? John G ah, ma che si, sono proprio tutti i pacchetti che trovi una cifra di gente e si lascia perde cioè, è proprio sta gente qua, capito? Così tipo, si è sgravato no, è sgravato, si lascia perde, offi se airpips besterman, abbiamo trovato anche yangambiwa incredibile con il nostro amico, non sa dirlo dice tipo, come, come mi dice yangambiwa ah, è il gasolino, yangambiwa ce lo pronuncia yangambiwa ah, chic e quindi lei non vale un cazzo va giusto, perché noi cosa ci serve a noi quello ci serve quello ci serve allenamento rosa capito? si roma ospiti buono vai 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 ogni volta che mi parte una fitta al core ogni volta che mi parte mi parte mi parte chi è stato uuuu uuuu su uuuu cazzo di da che tu ti amo mo tutti con la uso castro golu golu ma il fida no vabbè e abbiamo un pacchetto diciamo che mi piace tu lo hai detto abbi un pacchetto tu ok vabbè lo avro io vabbè vabbè lo due no io ho fatto niente io ho fatto niente io ho fiducia eliseu eliseu varietto suuuu mi hai rubato caricato uuuu forma fisicuuu basta ci sparano non so ma con il uuuu conoscini ancora conoscini uuuu uuuu il telefono squilla uuuu troviamo uno forte zabaletta che ci avete consigliato perchè noi come sa ben sapere leggiamo i commenti yes e ci avete consigliato ci avete detto che è abbastanza forte quindi ora che l'abbiamo trovato potremo provarlo magari nel prossimo questo è il tipo sociopatico nel prossimo episodio del rotto di vicio one quindi si tu che ci hai consigliato zabaletta tranquillo lo proveremo anche perchè l'abbiamo trovato a camera brabaz partiamo con il secondo pacchetto color ma tipo il sesto in totale FELLAIDI l'uomo che si dovrebbe dare capito il frato di caparezza e anche uno venis polanski che l'abbiamo trovato prima incredibile il grandissimo regista si è messo anche a fare Ogbonna por***a questo lo dovevo fare mi dispiace mettere bip dammi questo tocca a me grazie aggiornamento catalogo del negozio incredibile guarda subito fantastico si ecco si apre il pacchetto guardate l'incredibile grandioso sta per aprirsi spacchetto di Sam Patrick vediamo chi c'è dentro lo proviamo a trovare subito Pignolet che già vediamo Sam e Nolito l'abbiamo trovato i contratti fantastico incredibile troppa bamba arriva ad iniziare il video mi dispiace è finita è finita è finita vai vai tranquillo vai vai allora vediamo qua MULLER il franello è il franello è il franello o il fake ancora non lo sappiamo e poi c'è questo che sarà biondolo tutto il programma sarà un sole infatti guarda che chioma roberto sandio parti non c'è bisogno neanche di trovare todo tutto m eleri through 2 ho provato magli 40 bello ha i il gon' sam con di me fiscoli. un convinto arrivi al senso di catturale dignità e si alziano iadi vivi anivini san zanzanzatta tutti i miei figli dell'azienda in corria d'attacco zanzanzanzana dunce un bambino serpata serpata sia posto file finirk e questo lo schippa mamma mia l'unico giocatore gran pacchetto ovegli a schippa chi ti riscatto oggetto quagliarella hegeler, Guterres, e poi il suo show che può essere la rivelazione di questa venner è vero piano piano c'è rientramo oh ciu s rodriguez ho presciato fosugai, grobs croix, schielemark, bocchetti belmonte, il pallone una merda il pallone c'è una merda che abbiamo trovato solo questo pallone in tutti i parcopi nenga solo quello c'è un altro pallone c'è un altro pallone c'è un altro pallone c'è un primo po' qua no vabbè dai apri ultimi due famo e poi poi c'è piangere il cuore perché veramente c'è piangere il cuore ancora ma giusto perché c'è il quadrifoglio va il trifoglio perché c'è il trifoglio perché c'è il trifoglio belmonte te lo fanno apposta perché e la parte che i quadrifogli sono quelli che normali i trifogli sono quelli che portano qualcuno no che cazzo stai a dire fai guardi i fogli quelli che portano fortuna ah perché il trifoglio è semplicemente il trifoglio ce ne sta anche i russi scendi qua sotto eh ma il trifoglio è è il simbolo dell'irlanda esatto ultimo pacchetto questo è l'ultimo veramente eh ultimo veramente eh fantastico magico unico udah mettiamo da bonfetti lui le premo affanculo ti serviva ma per favore ma per favore ma è stato bit ma guarda che roba ma guarda che roba ma guarda che roba e niente l'abbiamo trovato nessuno in questo pack opening Vabbè non ci dice sempre bene che siamo sempre goodini ovviamente Capito Comunque ragazzi se questo pack opening vi è piaciuto Lasciamo tanti like Andiamo tipo a 5.000 perché i pack opening se lo meritano Sì i pack opening sì anche perché i soldi Capito Sì Lasciate un like raccomando social e tutto quanto bella Qua sotto c'è Instagram, Facebook e i nostri profili privati Lui vi piace sempre Passa basa con le video di pack opening Ciao bella